presentazione degli artisti che si esibiranno bene, allora qualche minuto per le prove, sound check di sì pronti con il frigo folk Maurizio, Maurizio in attesa di completare poi il controllo del suono e il sound check ho il piacere di presentarvi la cantante folk Veronica Pisano è qui al mio fianco, alla mia destra, un applauso glielo fate grazie accompagnata dal chitarrista Maurizio Gastaldi allora, un intermezzo abbiamo sentito il gospel, abbiamo sentito la musica religiosa abbiamo sentito la gioia di vivere e adesso tutto ciò che appartiene alla nostra terra più particolarmente quindi do il piacere di presentare l'intervento musicale con la cantante folk Veronica Pisano grazie grazie la citarra non è pronta? sì stiamo facendo il sound check suona suona la citarra non è pronta? trova AC grazie 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 grazie